Oggi domenica 9 aprile, un allenamento con grandi numeri di partecipazione, anche perché ci stiamo avvicinando al giovedì 20 aprile, quando qua ci sarà la settima edizione del Walking Middle Distance Night. E quindi un appuntamento da non perdere, anche perché sarà in pratica la prima gara stagionale in pista, non solo per gli atleti più grandi che faranno i 3.000 uomini e donne, qualcuno le siepi o i 1.000, ma anche per tutti quelli del settore giovanile che saranno impegnati invece sulla gara dei 600 metri. Presenti oltre una ventina di atleti, il gruppo dei senior, dei maschi più grandi, saranno impegnati in una serie di 1.200 ripetute sui 1.200 metri, con tempi da 3.27 a 3.36. E poi ci saranno anche il gruppo delle ragazze, da quelle grandi come la Cove, la Bassanetti, a quelle più piccole come Dolfini e Missaglia che faranno una serie di ripetute veloci su 200-250 metri. Infine il gruppo, cioè una coppia di velocisti con Cangelosi e Stubinski, Cangelosi un ragazzo più grande del 96, Stubinski un ragazzo molto promettente di origine polacca del 2001, che faranno un lavoro brillante di ripetute sui 60 metri. Avrò con me per fortuna due ottimi coach che mi daranno una mano, Umberto Missaglia e Andrea. Mi scuso ma non dimentico il cognome che sta facendo qui con me un corso per avere poi il brevetto di assistente tecnico. Le condizioni sono buone, poi sia di buon augurio per il meeting che faremo fra 11 giorni, giovedì 20 aprile. Scusate, adesso perché dopo sarà più il problema. Scusate, lo sport fa male! Quando lo sport fa male? Non mi metto il cappuccio. Ecco, metti il cappuccio. Ma non è. Non si può far male. Non vale. Oh, guarda l'inversione. Ciao. Ciao. Bagni Santa Lucia. Bagni Santa Lucia. Bagni Santa Lucia. Basta. Eh, basta. Torino! Nooo! Infatti, devi passare davanti alle ragazze che devono fare. Avete le palette? Oh, già il tema. Sta meglio il pescare. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Eh, Jacopo, come noi tutti facciamo un paio? Eh, Jacopo, come noi tutti facciamo un paio? Voglio dire che il tuo paio scopo più. E il suo ricordo. No, ha dato la carica a Giga, credo. Non sono mai per favore. Evitiamo. Soprattutto gli occhiali di Umberto, direi. Nooo. Quanti siamo qua? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12. Oggi... Oggi... Dai, ma che cazzo fai che sono 35 gradi? Ma quello no. No, ma dite di fare la cosa. Si spera. E ho capito che... Vabbè, meglio avere idee chiare ma poche. Questo ma poche. Va bene, quindi tu aspetta, lo so che... Ti attendi una mattinata, fatti cose. Però... Già si è svegliato. E' arrivati. E' arrivati. E' arrivati. E' arrivati. Ok, state con quella ragazza. Non lo vorresti chiamare. Ragazza. Dai. Va bene, dai. C'è la humming. Nooo. E' la traduzione italiana letterale. Frizi, frizi. Frizi, frizi. Tu sei con l'anguismo. Hai visto che prendi? No, no, no. Non c'è la tua... Non tra le presenze. Vuoi dirmi che è l'anguismo? Apre un po' silencio in più. Un po' di 100. Va bene. Non so, la prima volta che ho appellato l'opzione di 400 e io in 200. E poi vi portate tranquilli. 46, 37, poi 34, 32. Ci siete? Fate ancora qualche allungo? Questa già seguita da45 belli. Spirare della masina? Come dipendiam U drink again. Sao le campi si tro Sodom. Come stai cuore la tura Spinata? Sono così. sortsati. Che ci... Respondiamo. Come sci от... Come stiática e vacay della volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sento che li abbiamo affidati. Sotto, fra. Voi partite pure da qua ragazzi. Arrivate là ai mille, poi camminando, tornate qui. Vai bene, dai, dai, perfetto, 33, 4. Francesco, questo qua è da fermo. Fermo! H1! Andate già ritirato nell'allumo? Sì Via! Su adesso Giorgio Giorgio Forza tieni bravo tieni tieni 24 vai Braccia! Braccia! Stai composto? 23,56 Edo stai di supporto visto che fai 12 Vedi Edo! Siete? Vai! Hai preso anche tu il recupero? Sì sì Quanto sei? Un e mezzo Quanto? Un e mezzo 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 Ehi, dopo che... Aspetta, Ehi, aspetta, lasciali passare. Giorgio, ma le tre che stanno facendo, c'è il camminato. Forri bene, Francesca. Brava, Etel, brava. Edo, basta. Due diciassette. Due diciannove. Due ventuno. Due ventuno. Devo dire, 44. È tutto più breve. Bravo, Andrea. Mantieni. Forza. 3.20. 23, 24, 25, 3.26. Voi siete partiti qualcosa dopo, quindi almeno 3.30. Andate ragazzi, dai, dai, via. Grande René, che vi ho subito il mio solito sentiero per andare in mercato. Quindi in proporzioni sono leggermente più veloci. Eh sì, parla 5.38. Vieni, Jacopo. 13, 14, 1.16. Grave, ragazzi. Grave. 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 Partiamo dopo di ora. Forza Irene che poi hai la pausa, dai forza, forza, forza chiudi, 1.9, 1.8.5, brava Irene, corri bene, ferma il busto! Andiamo, 3 minuti poi... ... 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